Ha passato una bella giornata, vedo. Ma, ma questa è la mia roba. E quelle scarpe. Ma, mi scusi, ma... Di, di chi sono quelle scarpe? Del marito della signora. È arrivato un'ora fa per passare le feste con lei. Che stanno già festeggiando. Che stanno già? Festeggiando? Però, quanto ci hai messo a coprire d'opera? Non resistevo più. Cincini, amore. Sì, sì, cincini e cincini. Però giurami che non ti ha nemmeno toccato quello scarafaggio. Ma sì che te lo giuro. Gliel'ho fatto solo credere. Ci è cascato come un cretino. Mi fa quasi pena. Riparazione del fondo della piscina. Restauro del faraglione maggiore. Indennizzo... Indennizzo locale e piazzetta per distruzione su pelletti. Di quattro servizi barellieri. Uno di camera di rianimazione. Barca seminuova completamente distrutta. Tassa di soggiorno e pensione completa per i signori calvoni fino all'epifania. Questi sono i contanti? Cambiali? Erano un chilo e duecentocinquanta grammi. Scadenza tre mesi. Pantozzi le firmò con glaciale indifferenza. Perché ormai aveva deciso di ammazzarsi gettandosi dal salto di Tiberio. Chiara aiuta!